Ciao, mi chiamo Monia Zanone, sono la direttrice didattica dell'Accademia per Motivatori Human Project e oggi mi piacerebbe parlarti di una figura professionale molto richiesta, il Cancelor Olistico. Il Cancelor Olistico che noi proponiamo all'interno dell'Accademia per Motivatori Human Project ha un taglio prettamente motivazionale. Cosa significa questo? Significa che il nostro Cancelor è in grado di accompagnare il proprio cliente, sia esso un bambino, un adulto, una persona matura, a trovare la propria risposta giusta attraverso la propria domanda giusta e questo ormai è banale. Si pensa infatti che servano le risposte, invece non è proprio così. Attraverso la corretta domanda noi potremmo ottenere una corretta risposta e non viceversa, altrimenti si va un po' a funghi. Il nostro Cancelor Motivazionale è quindi in grado attraverso delle tecniche integrate, come potrebbe essere il simbolo, il colore, antichi percorsi che in territori moderni prendono un senso molto interessante a narrare nuovi adesso. Attraverso il riconoscimento del tesoro che si trova dietro il proprio passato è possibile riuscire a trasformare un brutto ricordo in qualcosa di molto interessante, aumentando così l'armonia e il benessere. Il cancer olistico è una figura assolutamente richiesta in tutti i settori, sia come accompagnamento per un personaggio politico, che sportivo, che all'interno di quello che può essere un percorso scolastico. Il Cancelor Olistico ha una grandissima capacità di sintonizzarsi con il talento di chi è davanti, riuscendo ad estrapolare in maniera migliore la parte che ci fa sentire di esistere. Ogni persona, ogni individuo ha come capacità massima, bisogno massimo, desiderio massimo voler essere al servizio, voler sentirsi di esistere attraverso ciò che fa, il proprio contributo che può dare alla società. Il cancer olistico è in grado di riuscire a far riconoscere questo territorio e se una persona si sente di esistere è in grado di aumentare la propria gioia, è in grado di aumentare il proprio benessere, è in grado di sentire in che cammino si trova, da dove arriva e verso quali orizzonti sta andando, riuscendo a costruire sicuramente futuri più funzionali alla gioia. Ecco, se sei una figura olistica già fermata e quindi puoi vantare già a un territorio di 450 ore, 500 nel campo, puoi richiedere un colloquio per riuscire ad aderire immediatamente al master. Il master è costituito da 13 incontri in cui hai una linea privilegiata per poter lavorare all'interno della relazione d'aiuto. Se invece cominci da zero e ti innamori di questo mondo olistico, di questo mondo integrato in cui l'anima ha un scopo molto importante e insomma non siamo soltanto carne, allora puoi cominciare da zero e contattandoci, riuscire a capire quali sono i tuoi talenti e qual è il percorso più adatto a te, perché ogni persona è unica e ha diritto ad un percorso unico, fatto apposta per lei. Quindi l'Accademia per Motivatori Human Project è in grado, anche in questo caso, di rispondere in maniera aderente a chi ci contatta, creando e strutturando un sistema di moduli più adatti a quello che è il talento di base. Se ti ho incuriosito a sufficienza, in maniera molto veloce e rapida, perché il percorso sta per cominciare, ti invito a contattarci o per maggiori informazioni visitare il sito www.humanproject.it per avere oltre le informazioni e per riuscire ad avere un colloquio del tutto gratuito con noi per capire se insieme possiamo iniziare un percorso di lavoro, un percorso professionale e anche naturalmente di crescita interiore evolutiva che fa per te. Quindi che cosa stai aspettando? Smetti subito di vedere questo video e contattaci. www.humanproject.it